Dopo questa partita mi avranno al 100% segnalata per aimbot perché ho fatto delle laserate con l'R mitico veramente senza senso Reggetevi forte perché state per assistere a una partita davvero incredibile Ragazzole ragazzole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video di Fortnite E oggi vi porto a una partita veramente straordinaria in rank ed in solo, chiaramente in real Dove peraltro mi ha streamstepperato un mio amico che ancora saluto, ciao Davide Perché per l'appunto R in live e lui voleva darmi una mano per conquistare il boss dell'R mitico E ovviamente cercare di farmi uscire da quella zona che è sempre una delle più pericolose di tutta la season E ragazzi io penso che tutti quanti ve lo sappiate, quella R mitico è a mani basse uno degli R più forti ma inseriti su Fortnite Cioè letteralmente questo R ha aimbot incorporato Infatti vi andrò a fare vedere delle laserate veramente incredibili E poi purtroppo il nostro amico ci ha lasciato perché è stato ucciso E ovviamente io l'ho vendicato e ho vinto la partita in una maniera veramente incredibile Quindi ragazzoni mi raccomando prima di cominciare con i video un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto E io vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni dalle ore 17 Quindi se volete vedermi giocare a Fortnite o volete passare solo per un saluto io vi aspetto Link in descrizione Ora però ragazzi non partiamoci in chiacchiere perché qua avete da godervi un vero e proprio gameplay Io vi auguro ora buona visione C'è uno snap in questa lobby oppure no? Maca ci sei? Dai Maca dimmi che sei il lobby Per favore Ci sei? Ti aiuto vai 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 Obiettivo AR mitico Ah capito mi dà una mano e mi ruba l'arma GG Ci vanno assarmi addosso Ma stanno fettando? Nooo ma quello di prima Twist Polo No è morto Rick No comunque qua non farmi nulla eh mamma mia No è morto Oddio Ma è morto Giorgio Melone Ah Giorgio Melone No Melone No 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 Ah non c'è il mio fratello Così impari a passare Giorgio Melone E poi si chiamava Deodorante Mi sa che devi usarlo però per svegliarti un attimo Perché mi pare che qua Deodorante lo so un po' male bro Chi è? Ma non hanno il medaglione No raga ho fatto un fail Ce l'avevi tu il medaglione Come here bitch Come here bitch Io bravo osama Giorgio Melone Giorgio Melone Come here bitch Come here conducto bene Giorgio teorica no Grazie a tutti. 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 Questo game lo dedichiamo al signor Macaco, al signor Giorgio Melone. Signor Giorgio Melone che mi ha fatto bene a ristarte la R. Grazie a tutti. Partita interamente dedicata a lui, anzi grazie ancora per avermi dato una mano. Mi raccomando ragazzi, se anche voi volete venire appunto in live da me per giocare con me o streamseperarmi o uscire comunque in un mio prossimo video, non dovete fare altro che stare in live su Twitch, mi trovate appunto tutti i giorni dalle ore 17 e trovate il link qui sotto in descrizione. Infine ragazzi vi ricordo di lasciare un bel pollice per questo video se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale ragazzi perché è davvero importante, è il supporto più grande che potete darmi qui su YouTube, quindi iscrivetevi. Ora però ragazzi ci dobbiamo salutare, chiaramente ci rivediamo in un prossimo video, dalla vostra Cratomist è tutto, bella a tutti ragazzi.